Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo le pubblicità con un attore particolare, l'attore Tommy Lee Jones, famoso per Man in Black e molti altri film dove lui ha un ruolo spesso serio, però in questa pubblicità è un po' diverso dal solito e vediamole insieme così potrete capire insieme. Pronti? Via! Ha ha ha, vai vai, vai vai vai! Oh mio! Ma non è bravo a parlare giapponese eh, sia meglio di Hardware Sempre che ricetta sul caffè fa, mi sembra, in questo video. D'accordo? Certo che non te l'aspetti proprio da Dominic Jones fare queste pubblicità. Ecco, poi avendo fatto Man in Black, vedere queste cose va a spaccare. Adesso vuoi vedere che come ti? No. C'è più trama rispetto a quella di Arnold Schwarzenegger come pubblicità. Sembrano dei film. Vestita da giudice del sumo è stupenda. Sempre calcolino, boss. Mi viene di questo se ricordo bene. Stupendo! Cioè, è un grande. Ma quanto cazzo è fresh? Questo è superiore a Arnold, secondo me. Il film è veramente sbattato. Perché si può vivere? Perché si può vivere? Questa è la cosa più bella che aveva mai visto. Questa è la cosa più bella che aveva mai visto. Cioè, fa tutti i lavori. Ah, oddio, questo attore è famosissimo in Giappone. Le fa spaccare vederli insieme. Però, se vedete bene, ragazzi, sembra che abbia un fotomontaggio nel volto con Billy Jones. Forse è un fotomontaggio. Non era neanche in Giappone, probabilmente. Ah, è stupendo. Ah, faccia strano dove ne gioco senza velocità. Ah, questa è la prima che ho visto nella mia vita. Si parla di anni fa. E' come i veri professori di Giappone che ci sono in Italia. Ah, ah, ah. Fatte tutte e due quelle con il caffè. Ah, questa, se ricordo bene, questa fa spaccare, ragazzi. C'è una scena. Altro che Tom Cruise che doveva fare l'ultimo samurai. Stupendo, è bellissimo. Cioè, non ho mai visto Tony Jones così figo come in questo... In questo... In questo... Comincio. Stupendo. Ah, un coltario di capelli poi. Ho chiedi da sole poi, eh. Ci erano all'epoca di chiedi da sole. E' sempre lui a rompere le palle con che cazzo di Drake. Stupende Avevo preso quelle più Più divertenti perché ce n'erano tantissime Tommy John se ne ha fatte tipo una quarantina E' veramente assurdo Ditemi se sotto nei commenti Se l'avete mai vista perché Io le prime le ho scoperte Un po' di anni fa però Non sapevo se ne fossero così tante E mi ha sorpreso come cosa Spero che il video vi sia piaciuto Se volete supportarmi iscrivetevi al canale Condividete e mettete mi piace Bene ragazzi ci vediamo al prossimo video Arrivederci